Siamo giunti al famoso Vax Dei, il fine giustifica i mezzi mi chiedo, la famosa frase di Machiavelli che spesso è usata per sottolineare il cinismo dei potenti, giustificare la dispensa dell'etica a favore del risultato. Quindi salvare vite, liberare gli ospedali, le unità intensive, tranquillizzare la gente, fare riprendere l'economia, sono indubbiamente risultati straordinari, così come costruire grattacieli, computer quantici e stazioni spaziali. Vaccinarsi è un atto di amore di solidarietà, ripetono esperti governanti. Personalmente non ce la faccio, non riesco di suonare con queste parole e a volte penso, forse dovresti sentirti in colpa. Certo, direbbe qualcuno, sentiti in colpa. C'è però una forza dentro di me, forte e chiara, una voce che dissente. Una voce forse incosciente o forse coraggiosa. Però la scienza ci dice che se vogliamo comprendere qualche cosa, dobbiamo prima comprendere la sua origine. Quindi, che prosegua pure questa grande campagna mondiale di liberazione dal male, io suggerirei di affiancare qualche riflessione. Pensiamo alla scienza, il pensiero scientifico, l'umanità. Per millenni la malattia era dovuta agli spiriti, spiriti maligni e il pensiero magico superstizioso aveva le sue tecnologie discutibili per liberarsi dagli spiriti maligni. Poi, quantomeno nel nostro mondo occidentale, è giunta la Chiesa e agli spiriti maligni si è sostituito il maligno come come causa di buona parte delle malattie. Mentre invece il versante pre-scientifico incominciava a specificare un po' meglio questo maligno definendolo miasmi, veleni. E poi venne la scienza. E soprattutto per quanto riguarda la medicina, il grande passo. La nascita della medicina moderna è datata, potremmo dire, alla scoperta dei batteri e quindi degli antibiotici, che ha cambiato radicalmente la qualità e l'aspettativa di vita nelle persone. Straordinario risultato. E così si è andata avanti. Il secondo straordinario risultato è stato la scoperta degli strumenti, della diagnostica sia molecolare che strumentale. Un altro enorme passo che ha ulteriormente allungato speranza e aspettativa e qualità della vita. Fino ai nostri giorni dove è in atto una terza rivoluzione, la rivoluzione genomica, potremmo dire, la rivoluzione della medicina di precisione cosiddetta, la quale individua, individua i marcatori genomici, i presidenti. E questo Covid, anzi questo Covid-19 mRNA BNTi 162 B2, che sarebbe poi il vaccino della Fister, non è propriamente un vaccino secondo la tradizione, cioè non è un agente patogeno disattivato, denaturato. segue invece questo nuovo filone della genomica, infatti è un RNA messaggero, è un'informazione, è un'informazione genetica che entra nelle nostre cellule e insegna alle nostre cellule a produrre queste tali proteine spike, che sono poi le proteine che il virus produce per entrare nella cellula. Quindi produce queste proteine, insegna di conseguenza all'organismo a sviluppare gli anticorpi per queste proteine, in modo tale che all'arrivo eventuale del virus con la sua proteina, questo possa rispondere producendo gli anticorpi. E inoltre anche attiva e migliora il sistema immunitario, produce aumentando la produzione dei linfociti T, delle cellule T. Ok, straordinario. Come si fa a dire qualche cosa, se non a inchinarsi? straordinario come i computer quantici, la risonanza magnetica o i razzi e le stazioni spaziali. Andiamo avanti con le nostre riflessioni. L'origine, l'origine, l'origine è il virus, no? Ci dicono, ah, e allora perché alcuni si infettano, altri no? Alcuni restano asintomatici, molti, alcuni si ammanono lievemente, altri gravemente, altri muoiono. Dove sta la differenza? Giustamente la scienza medica si fa queste domande. Perché alcuni si ammanono e altri no? Perché le terapie funzionano su alcuni e su altri no? E perché alcuni farmaci, alcuni presentano delle reazioni avverse a farmaci e altri no? e la scienza ha trovato delle risposte, il genoma. Quindi è nata la scienza genomica, farmacogenetica e farmacogenomica, la quale in breve risponderà alle domande, a queste domande per ogni malattia. Per ogni malattia sarà possibile individuare dei cosiddetti biomarcatori genomici. che saranno i responsabili della malattia. E di conseguenza sarà possibile produrre dei farmaci specifici per ogni malattia. La famosa medicina di precisione. Quindi il lungo viaggio dagli spiriti al genoma, ci catapulta in questo terzo millennio, non è un segno foliero di speranza per una qualità della vita elevata e lunga e prospera. Solo che, permettetemi di dirlo, le domande restano aperte. L'origine delle malattie? Qual è l'origine della presenza di un biomarcatore genetico in alcuni organismi e dell'assenza in altri? Le nostre tre domande sono intatte. Perché alcuni presentano i biomarcatori e altri no? Perché quelli che presentano certi biomarcatori? Su quelli che presentano certi biomarcatori, le terapie funzionano e su quegli altri no? E perché? Quelli che presentano certi biomarcatori, se trattati con i farmaci, con certi farmaci hanno eventi avversi e altri no? Non c'è risposta per ora. Forse perché non si cerca nella direzione giusta. Il fine giustifica i mezzi? Sconfiggere il virus, allungare la vita? Può giustificare, non porsi le domande giuste, dimenticarci della vera natura della malattia? Perché dico dimenticarci? Perché se noi vediamo la ricerca medica, anche quando parla di ambiente e con cause epigenetica, trascura completamente il versante, diciamo così, della coscienza. Puro sguardo sulla materia. Cioè, la famosa distinzione cartesiana è tuttora intatta. Tuttora il nostro mondo scientifico opera sulla res estensa e trascura la res cogitas e trascura la coscienza. Legittimo è stata la scelta originaria della scienza. È più facile studiare la materia. Occupiamoci di questa per ora e trascuriamo per il momento la coscienza. Siamo ancora qua, dopo quattro secoli, a trascurare per il momento la coscienza. Certo, adesso c'è l'emergenza. C'è sempre stata un'emergenza. Trascuriamo per il momento la coscienza. Trascuriamo per il momento l'essere umano nella sua totalità. Adesso quello che importa è salvare le vite e liberare gli ospedali. Ok. Continuiamo a trascurare il modo, il significato, la coscienza, l'anima, quella che Aristotele chiamava la forma delle cose. Qual è la forma delle cose? Proviamo a chiederci qual è la forma delle cose. Fermiamoci un attimo. Eh no, ma la vita, bisogna salvare le vite. Ok. Va bene, salviamo le vite. Facciamo i vaccini, ma cos'è la vita? Domanda legittima. A me risulta che la vita sia nascita, esistenza e morte. A me risulta che siamo fatti per vivere una vita onorando il vero, il bello, il buono. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire tutte conoscenze. E quindi io mi aspetterei che noi ci chiedessimo quelle domande. Fossero la prima nostra attenzione, la prima attenzione della scienza. Fargli le domande su no? Come onorare l'esistenza, seguire il vero, il buono, il bello? No? Come sopravvivere? Anche, certo, anche. Anche, ma non solo. Solo che questo non solo continua a rimanere trascurato. Ancora una volta, facciamo le domande giuste, perché se vogliamo essere dei ricercatori, se vogliamo essere dei scienziati, l'importante è fare domande giuste. Chi buono inizia è a metà dell'opera, no? Una buona domanda porta dei buoni risultati. Proviamo a farci queste domande, ampliando al vero, al bello e al buono. Qual è la vera origine del virus e delle sue proteine spike? Qual è l'origine dei biomarcatori genomici da dove vengono? Dal genoma. Certo, chi l'ha messo insieme il genoma in quel modo? Quante domande. il caso, la verità, bene, spostiamo in là, in confine, la vera natura, l'origine prima. Senza scomodare Dio. C'è un prima, la forma delle cose, il modo di ogni cosa, la struttura di ogni processo. Proviamo a fare, a gettare uno sguardo su questo, su questa dimensione che potremmo chiamare la dimensione della coscienza. Il nostro organismo, ci dice la scienza della complessità, è un CAS. CAS, Complex Adactive System, dotato di un insieme di qualità, sintetizzabili nella capacità di auto-organizzazione, attraverso auto-rinnovamento, auto-trascendenza, per esempio. Questo vuol dire, tra l'altro, che un organismo è in grado di produrre anticorpi contro una proteina, contro una proteina all'idea di un virus, qualora questa arrivi. perché non lo fa? Questo potrebbe essere una domanda. Perché non lo fa? Però, noi dobbiamo salvare vite, quindi per ora trascurriamo la domanda. Quello che conta è ottenere il risultato. Va bene. La vera natura della malattia resta di lato. Vediamo che cosa fa il vaccino. Il vaccino fa quello che l'organismo dovrebbe fare. O meglio, lo stimola come se gli dasse qualche calcio nel sedere. Su, su, svegliati, alzati. Non gli chiede perché stai dormendo, gli chiede svegliati, sbrigati. Solo che, anche se il fine è nobile, il mezzo trascura la vera natura, trascura l'origine. E in questo modo l'organismo resterà il più debole dopo, non più forte. Sopravvive, ma più debole, non più forte. Non è che ci voglia un scienziato per comprendere questo, basta il buon senso. Pensiamo alla famosa metafora del regalare il pesce o dell'insegnare a pescare. Se io ti vedo in riva al mare con la carne in mano che non peschi i pesci e ti regalo il mio pesce, tu magari sarai contento e dirai anche che ho avuto un atto di cuore. Mi ringrazierai, però io me ne andrò più forte e tu resterai col tuo pesce che poi finirà e di nuovo non saprai pescare. È evidente che insegnarti a pescare è la cosa giusta. Solo che insegnarti a pescare richiede che io mi chieda e ti chieda, ma scusami, hai la canna da pesca, sei davanti al mare, perché non peschi. Se io trascuro questo non ti faccio bene. In più, questo vaccino Covid-19 MRNA-BNT-162-B2 ha un aggravante. Non solo ti dà il pesce, ma questo pesce è un'informazione. È un'informazione che entra nel tuo sistema cognitivo, potremmo dire, e ragiona per te. Quel ragionamento che tu non fai per imparare a pescare te lo fa lui per te. Quindi tu peschi. Ma quando poi l'informazione si esaurisce, tu non sai più pescare, perché non hai appreso tu. Evoluzione è apprendimento. Si tratta di apprendere. Se io introduco un'informazione aliena, tu peschi, che pesca al mio posto, tu peschi, ma poi finisce e tu di nuovo sarai senza canale pesca e ovviamente più debole. Una seconda aggravante, questa informazione, è l'informazione per insegnarti a pescare, cioè per farti produrre gli anticorpi contro quella proteina. E chi ci dice? Nessuno può dirlo, mi spiace, nessuno può dirlo. Che questa informazione non si allarghi, che questa informazione non insegna a produrre anche altre proteine, non possiamo sapere. Buon ritorno alla normalità.